Se io avessi acquistato nell'anno 2000 un appartamento a Miami e avessi deciso di affittarlo avrei preso 100 dollari al mese facciamo queste cose base 100 100 dollari al mese un appartamento di buona qualità in zone centrali volete sapere quanto prenderei oggi di affitto dal 2000 quindi al 2015 secondo un interessante ricerca del centro studi di scenari immobiliari oggi prenderei 199 dollari quindi avrei visto raddoppiare il canone di locazione che il mio conduttore pagherebbe grazie a tutti Grazie a tutti.